Era riuscito a scappare prima dell'arresto rifugiandosi in Inghilterra. Faceva parte di una banda criminale dedita allo spaccio di droga nell'Aretino, sgominata dai carabinieri con l'operazione Aquila che si era svolta tra l'Italia e la Spagna. Adesso l'uomo, un 29enne di origini rumene, è stato rintracciato dai militari ed è stato estradato in Italia. Il blitz dei militari era scattato lo scorso marzo. I carabinieri erano riusciti a stroncare un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, una maxi-operazione antidroga che aveva permesso anche di far luce sull'esistenza di due gruppi criminali rispettivamente di etnia albanese e romena e che aveva portato anche al sequestro di enormi quantitativi di droga e di un'intera piantagione di cannabis in Spagna. Il blitz si era concluso con 22 arresti ma proprio nel corso dell'esecuzione delle misure cautelari il 29enne si era volatilizzato rendendosi irreperibile sul territorio nazionale. Dopo mesi di controlli e di investigazioni, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Arezzo, in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale e le Forze di Polizia del Regno Unito, sono riusciti a mettere le manette al 29enne che era sfuggito alla cattura. L'uomo sarà adesso processato in Italia per il reato di concorso continuato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.